e in questi istanti sta andando in onda il Seriale di Amici 13esima edizione condotto dalla bellissima, altissima e macrissima, straordinaria Maria De Filippi allora, che cosa sta succedendo? c'è sta ospite Kili Minok, non mi ricordo se si pronuncia, anzi non so sicuramente se si pronuncia proprio così perché io non so l'inglese, quindi non so la traduzione di questo nome, comunque sia Kili Minok che cosa ne pensate di questo ingresso in studio, di questa cantante? scrivetelo nei commenti www.nichigiusino.it salve salve